Maestro, allora, a me piacerebbe adesso che lei ci raccontasse qualcosa dei suoi ricordi di quando è vissuta nei Sassi, dove abitava la sua famiglia? Le Cinto Secondo Paradiso. Era una famiglia numerosa? La Cattolini di Montemont, 200 anni. Si. Se ne erano stelle. Quanti figli formavano la vostra famiglia? Niente. Nove di venti. Ma che dici una cosa? Vi restate in Ascensio. Io per rappresentare tutta la famiglia. Perché? Allora, scherzo te la parte della famiglia. No. La raccomandazione. Vedete, non per a me. Siete, io tu mi scopo, qui c'è la teglia. O... O castone. O ricerche. Ed è venuto torta. E... La testa. Io ho provato a stare la testa dopo. Alla storia che torta. Si. La testa. Che è messo in un ristorante. E torna erano sale da ballo. E di spasaleggi tutti. O cristiano. Facciamo la testa da ballo. La pagina. In quel portone là. Arrivedo a cert'ora. Torni. Mi risulti. Arrivi. Alla cantolini. Magari. Scendo scherzo. Scendo la tastiera. Scendo la tastiera. A un certo momento. Stavano due portine. Non lo so se avete presente. Si. Doveva essere il ristorante. E sopra due portine. Se ne pareva che per nasciare sempre. Quando ero competente. Gio Manu. Perché. Che due. Tre tanti. Pertone. Nemmeno. Che stavano. Quanto è il tasto. Quello. Ha. Senza. Allora. Mi dicevo. Ma me ne ho ancora. E' a giuro. L'uomo. E' quello che da mezzo. Là ce n'è. Noi. Ci sono. Dovevo. perché c'è l'occhio da te che io ho sempre che io ho scelto da te e allora è già passato da te io ho scelto da te e io provavo a scelto quante persone da rosso e caduto e io ho fatto ma io ho la posto io ho fatto questo e stavano qui e stavano qui la domanda di mamma no e la domanda a un certo momento alla fine del patrino per me ho vado a scelto dalla tua braccia Veloce ma qui si chiede l'occhio la fonda nena stava addosso a me la stava da un guallarello e io prendo un piccolo e ha cominciato a battarmi Veloce ma anche ci sono da te e qui c'è da subito per regno che è passato a scelto si vede un palombo si vede le carabbriche per cui ho una parte a scelto e allora mi hanno fatto la città della notte di maria con i pantaloni ma non è un po' qui niente perché qui c'è qui c'è il pasto mentre scendendo al sepolcro di pezzetto ha una schiera nera e mi hanno fatto allora io prendo un piccolo e mi diceva la roba era un problema tornare a casa perché si credeva in tutti questi fantasmi ecco e allora un cristiano ci hanno venduto hanno venduto l'ombra hanno venduto l'ombra hanno venduto l'ombra hanno venduto tante cose e una semente che hanno accettato l'ombra stavano in compagno il creatore che si è venuto a tre donne si è sfrommando allora si è venuto a un primo quindi erano delle invenzioni fatte apposta per questo motivo per evitare che i giovani e i bambini tornassero tardi a casa o ci credevano veramente anche loro? il creatore stavano dicendo che perché le donne e quelle che hanno giocato? 1 2 3 5 6 Grazie a tutti